I danni del maltempo nel Fucino sono stati ingenti. A maggio scorso risale il disperato appello degli agricoltori che hanno visto gran parte dei raccolti andare in fumo. Nonostante la richiesta di calamità avanzata dalla regione Abruzzo e dall'assessore imprudente, la situazione è molto difficile ed è stata affrontata nella commissione chiesta dal Movimento 5 Stelle. La pioggia ha messo in crisi il comparto agricolo del Fucino, ma più in generale la provincia, che risulta la più colpita, al suo territorio marzicano produce l'equivalente del 25% del pile agricolo. Di sicuro noi subiremo dei danni quantitativi enormi. I prezzi sono anche alle stelle, quindi è un danno anche per i consumatori che devono acquistare ortaggi, visto che parliamo del Fucino, ma è un problema di quantità di quello che andremo a proporre sul mercato. Il Fucino, che l'anno scorso era diventato il primo produttore di patate in Italia, quest'anno vedrà ridotte notevolmente, probabilmente del 40-30%, la produzione di patate. Dico 40, ma rischio di sbagliare perché magari già domani è di più. Inoltre c'è anche la drammatica situazione che vivono i braccianti agricoli. I lavoratori braccianti agricoli del Fucino, dalla mese di marzo, non stanno lavorando. Hanno perso, rispetto all'anno precedente, circa il 70% del reddito mensile, sia per i mesi di marzo e di aprile, e in parte anche di maggio. E oggi sono in una condizione particolarmente sfavorevole, sia da un punto di vista sociale, perché effettivamente la mancanza di un reddito corrente comporta tutta una defaianza nel ricorso della vita normale. E in più è ancora più aggravata, in quanto non lavorando, non hanno la possibilità di accantonare le giornate lavorative utili per la disoccupazione che andranno a presentare nel 2024 relativo al 2023. Quindi diciamo che a una situazione corrente, di disagio forte economica e sociale, si aggiungerà a quella del prossimo anno, in cui non potranno presentare molto probabilmente la disoccupazione agricola.